Con Red Sparrow, Jennifer Lavrence approda ad un nuovo genere, il thriller di spionaggio. L'attrice, già famosa per aver interpretato Katnise Verde e nella trasposizione cinematografica della collana The Hunger Games, il prossimo marzo apparirà al cinema come seducente spia russa. Sceneggiato da Justina It e diretto da Francis Lavrence, nessuna parentela con l'attrice, il film è una trasposizione cinematografica del romanzo di Jason Mates, dal titolo Nome in Codice, Diva, ambientato durante gli anni della Guerra Fredda e la rivalità tra Stati Uniti e URSS. Dominika Egorowa, Jennifer Lavrence, è una giovane ragazza sovietica che in seguito ad alcuni eventi entra in contatto con un istituto sovietico segreto, la scuola Sparrow, che forma spietate spie con lo scopo di utilizzarle come macchine assassine per conto del KGB. Per sfuggire alla sua morte, la ragazza è costretta ad arruolarsi e a diventare una giovane e fredda spia, trasformandosi in poco tempo la migliore Sparrow che l'istituto abbia mai formato. Pericolosa e spietata, Dominika è una vera e propria vedova nera, ma quando le viene assegnato come obiettivo l'agente della CIA Nathaniel Nash, Joy Leggerton, le cose si complicano. Tra giochi di tradimento e passione, i due protagonisti avranno nelle proprie mani non solo il proprio destino, ma anche quello delle loro nazioni. Red Sparrow riprende il genere del thriller, spionaggio già trattato in alcune pellicole di 007, in Nikita, film del 1990 di Luke Besson, e nel più recente Atomica Bionda interpretato da Charlie Zeteron. Ma nel secondo trailer italiano del film, è già e palese la differenza che intercorre tra Red Sparrow e le pellicole che lo hanno preceduto. Mentre in Nikita ed Atomica Bionda il lato action e la rivalità tra Stati Uniti e URSS emergono come colonna portante dei film, in Red Sparrow questi due aspetti vengono presentati in maniera marginale, dando più spazio alla presentazione e allo sviluppo del personaggio di Dominika. Nonostante il suo addestramento, che la trasforma in una spietata femmina fatale, la donna è disposta a tutto per ottenere ciò che vuole e conserva ancora dentro di sé un lato umano, che le si manifesterà proprio quando conoscerà la sua nemesi. Per vedere Jennifer Lavrence come non l'abbiamo mai vista però occorrerà aspettare il prossimo marzo. Siete fan della Lavrence? Curiosi di vederla come spietata e seducente spia russa? Fatecelo sapere in un commento.